più decise ma Cristian è un atleta estremamente deciso con grandissima voglia di attaccare attenzione Cristian Ghedina è molto veloce 133,8 la sua velocità nella parte alta pulito anche al stato della seggiovia anche se forse un po' lungo di linea un pochettino lungo di linea è molto vicino ai primi 18 centesimi di vantaggio se adesso lascia correre come sa può ancora farcela Cristian forza molto basso sempre pulito finora in quei saltini anche lui un pochettino di traverso in questa curvetta qui è molto pulito invece lui sa lasciar correre come pochi per cui c'è veramente da sperare che Cristian riesca a recuperare quel ritardo che esiguo ha già guadagnato ancora e ha solo a 5 centesimi a 1,13 di gara forza Cristian forza Cristian ce la fa ce la fa speriamo 34 e 39 primo con 6 centesimi di vantaggio primo Cristian Ghedina grandissima gara di questo grandissimo campione che è arrivato al traguardo tre volte quest'anno un terzo un secondo è un primo posto che mi auguro tanto rimanga tale